cari amici di smart video fotografi benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato all'applicazione cap cat ovviamente il video cambia perché ho cambiato anche postazione via il panno verde basta è finita l'epoca di giocare col verde siamo in bianco manca ancora qualcosa alle mie spalle arriverà un quadro molto presto di una mia amica poi fare farò la giusta intervista e la giusta pubblicità siamo qui per parlare di cap cat ovviamente vi invito a scrivere al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò a questo punto andiamo a creare un semplice live show veramente in pochi minuti anche se vi sono dilungato con cap cat per vedere ovviamente la potenzialità di questa applicazione mentre sono le finestre aperte ho usato la riduzione del rumore dell'arc m1 che arriverà molto presto sul canale la prova che ho fatto perché adesso non l'ho messa quindi si sentono tutti i rumori e gli uccellini che sono fuori dalla finestra perché ragazzi fa ancora caldo quindi non si può ancora chiudere perdonatemi e andiamo a vedere cosa combinato bene come possiamo creare un slide show in cinque minuti con cap cat innanzitutto potremo andare qua dove c'è la sezione automatica ma non ci piace fare cose automatiche andiamo in manuale più attenzione gatti che ci sono fuori però io non ho paura quindi andiamo qui e carichiamo le foto che vogliamo utilizzare ecco possiamo ovviamente organizzarci in una cartella che contenga tutte le foto che vogliamo utilizzare perché dobbiamo stare attenti a formato se vogliamo farle un slide show come si deve dobbiamo averle tutte in un formato tipo orizzontale o verticale o quadrato perché se no dobbiamo zoomare e ovviamente sappiamo che zoomando non sempre le foto riescono nitide andiamo a cercare adesso una cartella e carichiamo le foto ok io caricherò queste quindi una due tre quattro sperando che siano tutte nello stesso formato se no Gennaro è un imbecillotto andiamo a caricarle ho la riduzione del rumore perché abbiamo la finestra aperta e ovviamente le moto ci passano in testa adesso andiamo a scegliere o subito una canzone oppure possiamo fare lo slide show vedete ecco ok questi non sono del formato giusto quindi prima di operare andiamo a mettere a posto il formato e vedere che succede vedete che questa non è il 16 noni quindi cosa facciamo la selezioniamo andiamo sul crop andiamo sul crop e scegliamo formato 16 noni vedere questo ok ok e adesso possiamo vedete vedete che cap cat ok ci dà le linee guida possiamo fare anche questa ovviamente ragazzi il soggetto è ovviamente il soggetto che avete ritratto non è più è lo stesso però io vi faccio vedere perché così vi rendete conto che potete anche ridimensionare le foto se avete un formato infatti tutti i formati sbagliati ho preso neanche per sbagliato mezzo neanche per sbaglio come dire neanche per sbaglio questa si presta così vedete che perde un pochino anche se sono belle queste foto lo so che si lo si imbroda ma sono tutte tutte quadrate perché erano nate queste ho dato su una cartella che era nata per ovviamente per instagram quindi ragazzi c'è il mouse che l'ho sempre colpa del mouse ma poi sono io in effetti ehm sì sono tutte fatte per instagram vabbè comunque facciamo questo lavoro qua così abbiamo abbiamo capito anche questa ehm diciamo ecco una cosa che possiamo fare ovviamente posso anche vedete io che mettere a fuoco il soggetto che voglio ragazzi è una cosa eh eccezionale è questa perché io posso anche decidere l'inquadratura della mia foto ok quindi ehm niente di eh lasciato al caso in cap cat eh ok da questo punto di vista quindi concludiamo la procedura e eh siamo a posto ecco finita questa procedura adesso possiamo andare a applicare ovviamente cominciare a fare il nostro slide show ecco c'è una bella eh funzione che sono le animazioni se io clicco su eh un'immagine ovviamente io ho un'immagine potrebbe essere anche un video vado su animazioni abbiamo tre eh possibilità come ho già spiegato l'ingresso ovviamente l'uscita oppure la terza che praticamente è quella che eh fa sì che quando l'immagine viene vista abbiamo un'animazione che staziona ok mentre l'immagine viene visualizzata quindi andiamo qui ci sono tutte queste immagini purtroppo non abbiamo il comando applica su tutte perché sarebbe anche carino mettere un'animazione ehm che sia uguale per tutte perché fa più fine ma noi le metteremo tutte diverse perché eh vogliamo fare una cosa eh voglio farvi vedere tutti i tipi di animazione che ci sono ecco io ho sbagliato si può anche non uscire ovviamente dal da questa modalità vedete mette questa io vado avanti ne scelgo un'altra un'altra ovviamente devo stare attento a non aver scelto prima ovviamente la stessa vedete posso cliccare sulla foto e lui praticamente ok mi slitta automaticamente della foto successiva alla foto successiva quindi non ho problemi di uscire da questa funzione scelgo tutte le mie belle animazioni quante ne ne voglio scegliere ecco questa non va bene perché vedete ruotata quindi si vede la l'immagine che non è eh nata a 16 noni e non sta bene secondo me non sta bene ovviamente anche questa è la stessa vedete che ok ok questa potrebbe essere ok mettiamo questa mettiamo una delle prime vediamo un po queste sono tutte eh che ruotano vedete che belle queste qua ok ok vado un po più veloce vado un po più sparato perché diventiamo bisnonni ok vedete queste non sono non sono idonee a questo lavoro qua questa lo è non lo è questa guardiamo un po che non lo è vedete che diventa quadrata poi si vede il nero questo lavoro qua questa invece lo è ok molto bello ben fatte andiamo un po verso la fine vediamo un po molto ben fatte e queste qua vedete che non va bene eh no 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 niente queste non vanno proprio bene perché sono nate tutte per far vedere l'immagine praticamente che ecco vediamo questa va ok perfetto fatto questo posso scegliere anche una transizione tra una e l'altra in questo caso posso scegliere andando sul più una transizione e applicarla a tutte le mie immagini quindi verrebbe una cosa un pochino più eh come dire fine come ho detto scegliamo 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 quella che vogliamo ok vedete che me lo fa vedere anche l'anteprima che si mixa molto bene con quelle che ho messo se poi era una unica ancora meglio ok quindi andiamo a vedere un pochino faccio vedere un po tanto per questo a cuore questo a cuore lasciamo stare questo è per i ritratti no queste sono troppo pacchiane ragazzi troppo pacchiane a gusto mio eh come dicevo sempre ognuno c'ha i suoi gusti lasciamo questo se io vado qua applica su tutto lui le mette su tutte le eh transizioni di tutte le immagini infatti se adesso vado avanti vedete che ok si applica su tutto questo punto posso aggiungere una colonna sonora come ho detto prima quasi sempre la colonna sonora va a tempo ok con le mie immagini perché la dimensione diciamo la durata delle foto è come dire fatta apposta forse però ovviamente poi si può tagliare come ho già fatto vedere scelgo questa andiamo un po' a vedere avete visto eh ora come al solito dobbiamo andare in fondo ok e tagliare qui ok la nostra la nostra musica perché se no eccede eh eccede ok l'abbiamo tagliata già gennaro taglia e la possiamo far finire qui eh leviamo ci scelterà ovviamente capcat il simbolo lo leviamo e lo leviamo sì cancellandolo mi dimentico sempre che bisogna cancellarlo bisogna selezionarlo e cancellarlo ok adesso possiamo ovviamente fare così e mettere un fade alla fine ok possiamo andare su effetti e mettere un fade bene andiamo su dissolvenza e qua vedete abbiamo inizio e fine ok io faccio così ok e quindi abbiamo fatto un slideshow in poco tempo cioè ho messo tanto perché ovviamente ho fatto vedere come si fa ma vedete che praticamente è molto semplice ok la procedura allora avete visto quanto è facile creare uno slideshow abbiamo molti strumenti le animazioni che possiamo mettere ovviamente all'inizio alla fine ma nel mezzo ovviamente della visualizzazione di questa immagine e poi arricchire con una dissolvenza ovviamente io ho fatto una cosa abbastanza pacchiana non si utilizza effetti multipli su un slideshow ma si utilizzano più o meno effetti simili ok tra di loro per non far diventare una cosa ovviamente non troppo fine vi invito a iscrivervi al canale e azione al campanella per ricevere notifiche dei video che posterò io vi ringrazio tantissimo per i commenti che arrivano gli iscritti al canale veramente ragazzi veramente non so come ringraziarvi e vi rimando al prossimo video un abbraccione da Gennaro ciao ciao sono Gennaro creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile sul mio canale youtube smart video photography potrai imparare a fotografare girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo offro formazione anche online ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo instagram ciao a presto ciao